Scusa, tutù, magari gli occhiali, sai, ti senti artista anche oggi? Va bene. Cari amici e follower di Mike e Tony! Siamo ritornati anche oggi con un nuovo video! E soprattutto abbiamo portato un amico, abbiamo portato Marco! E soprattutto, vecchi video, non li facciamo più! Tiragli in pugno, veramente! Non lo devi toccare! Ma che cazzo! Prima di iniziare con il video, devo salutare Ale, che mi ha chiesto di salutarla in un video! Quale era il tavolo comunque? Vi ricordiamo anche di lasciare le notifiche alla nostra pagina Instagram Mike e Tony, perché le ultime tre le saluteremo nel prossimo video e le ultime tre di oggi sono... Vada Binda, Elisa Giannolla e Anthony Dutauwe! Olè! Ciao Anthony! Grazie, sì! Ciao! 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 Comunque lui si chiama Marco! Sono Marco, sono iscritto a Mike e Tony, non mi trovo più da 5 minuti e feria! Grazie a questi due! Ma... Com'è che si chiamava? L'intesa vincente! E quel gioco direi 1, non fatemelo spiegare, l'avete già capito questo? Marco indovinerà le parole grazie a noi che formeremo la frase per farvi indovinare le parole, per i sottotitoli 777 di Televideo. Useremo un generatore casuale di parole. Non si possono usare parole... nemmeno le parolacce, non si possono usare parole che contengono le parole, non si possono usare parole... non si possono usare... Iniziamo col video. Saluto tutte le ex di Antonio. Io anche, ciao eh! Io le ex di Michele invece non le saluto, bella la mia maglietta. Mi piace la mia barba? Lasciate un commento. Siamo pronti ad iniziare, fai! Cosa facciamo per mantenerci in forma? Ginnastica! Sforzo! No, ripeto, ripeto Va bene, facciamo che era una prova questa Ma Marco non ha ancora capito l'intesa Non l'ha capito un cazzo No, aspetta che non mi hai fatto partire La Passo Ma come? Cosa, chi, quando La Consultazione Io volevo fare la Sifa ai referendum Ti faccio niente Prossima parola Guarda che devi iniziare con cosa Quando ti do La Buona parola Soprattutto Soprattutto Sisto, vai E No Lì Vuoi Quei Kiwi Dove Si Trovano I Delinquenti Prigione No Ma che è la galera Deve Siancere Formaggio Cioccolata Sciolto Basso E' lui che lo deve dire Basso Basso E' una fonduta Cosa Fai Con Il Trapano Buco Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Fuori Fuori In Tuffi Tuffi Tuffo 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 C'è lo dico Sei singolare Cari amici Come state vedendo Non è colpa nostra Ma è colpa sua Non l'ho capito Un cazzo Cosa Fai Con La Sposa Quando Ti Sei Sposato Matrimonio Cioè Casomai Dove vai Quando Ti sposi Non cosa fai Cosa fai Di miele Lula di miele Dove vai Dove vai Manca un secondo Abbiamo un secondo Per una parola Matia Cosa Non È Il Stia Cari amici Tocca a Michele Manco uno Cosa Non Sei Quando Ma tu Cosa non è giovane Quando non sei giovane Madrid Siviglia Parcellona Spagna Dove si trova Madrid Si fanno così Le frasi Scusate Mi è giusto Madrid L'hai indovinata Non va bene così Cosa Usi Per Aprire La Porta Maniglia La chiave La maniglia Io uso La maniglia Se non Indovina Questa Cosa Vai In Stagione Cabaret Spettacolo Animazione Sketch Ma potrò mai arrivare Cosa Cosa È La morte Del figlio Cosa Fa Il Contadino Quando Semina Chi È La Amica Di Heidi Clara Heidi Di Baco Materiale Passo Baco Di seta La parola La seta Cosa Usa Il Fantino Per Cavallo La staffa Per salire A cavallo Fate Schifo Viene tre Marco Uno Cosa È Questa Di Dimora Casa Cosa Dove Siamo Eh Davide Diceva Cosa Usa Il Cagnolino Per Giocare Palla Pallina Pallina Se non usavamo calcio No Si gioca a calcio Palla Un cagnolino Usa la pallina Avrei detto Ballone Dove Gioca Francia Serie A La Francia Siamo in Serie A Contro chi gioca oggi la Francia Scusa È Olanda Dove si trova Amsterdam Non potete dire il gioco Oggi contro la Germania Io ci stavo arrivando Serie A L'Olanda gioca in Serie A Cosa Non È Arrivo Partenza Avvio No Dai We Live In Yellow Sunmarine 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 No Submarine Era Sottomarino We are living Yellow Sunmarine 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 We are living A yellow Sunmarine Cosa si trova Sottomarino Sunmarine Flat Sunmarine Ho due secondi Vale ce la facciamo Cosa? Usi Quando? Piove Ombrello Cari amici e follower di Mike e Tony E niente di intesa migliore è stata quella tra Antonio e Marco Io sono bravo a capire Ma non a fare C'è più facilità nel dire che nel fare Tra dire e fare c'è di mezzo al mare Beggio l'intesa E comunque se volete altre challenge di questo genere con qualcun altro Le facciamo Non c'è problema Basta che ce lo scrivete nei commenti Lasciate tanti like Iscrivetevi a Mike e Tony Anzi Se volete partecipare alla nostra challenge Diciamo che vi veniamo a trovare Solo se siete maggiori A domicilio Solo se E qui da Marco E qui da Tony E qui da Marco E qui da Mike E qui da Tony E' tutto E' come fossimo ad un lei E qui da Michael